Musica Bella ragazzi da SuperDevKiller e benvenuti in questo vlog ragazzi Allora, iniziamo subito da... Prima di iniziare con le news, voglio già dirvi una cosa Come potete, come diciamo, avete potuto capire C'è stato un problema con il mio ultimo video che ho caricato E purtroppo è stato segnalato dal copyright Quindi l'ho dovuto cancellare subitissimamente Perché se no mi chiudevano il canale E purtroppo diciamo che non era come una bella cosa E diciamo che a brevissimo magari lo ricaricherò Però non come... Cioè non caricherò dopo il vlog caricherò questo video Però caricherò, diciamo, caricherò appunto il vlog Poi quest'altro video E dopo, intanto scusate se ve lo chiavi Intanto guardo se magari qua sotto carica il tutto E stavo dicendo che caricherò prima il vlog Poi quest'altro... Un altro video E poi ricaricherò il video che ho dovuto cancellare Quindi ragazzi Possiamo dire che è un bel problema Ahimè è un bel problema Però ragazzi state tranquilli che caricherò tutti i video Nel... In breve tempo So che magari è già da un po' di giorni che non carico video Però c'è stato... C'è un piccolo problema La scuola E ho già detto tutto Ok ragazzi Unica news per il mio canale Sarà che inizierò una nuova serie Su... La chiamerò, diciamo La chiamerò Mono Gameplay Allora, ora vi spiego Mono Gameplay Cioè prenderò dei giochi a caso E farò Dei gameplay Che dureranno un video Un video solo Quindi potete trovare Stato, mi rimetto gli occhiali così almeno Vedo qualcosa E... Stavo dicendo Mono Gameplay Cioè gameplay che dureranno un video al massimo Quindi solo per farvi vedere com'è il gioco Poche parole Cioè... Ma farò anche giochi che tipo ha fatto tutto il mondo Però, vabbè, dai Per fare qualcosa E fare qualche video per il mio canale In vista, diciamo Del periodo che Che si trappone ovviamente Tra qua e la scuola Perché È un bel po' di tempo Quindi ragazzi Questa è l'unica news per il mio canale L'unica novità che ci sarà Appunto Nel mio canale Ovviamente Continueranno i tutorial Continueranno i taki gameplay Continuerà tutto Però A ritmi molto bassi Perché appunto Con la scuola Mi leva tantissimo tempo Sia la scuola Sia altre cose Che Non sto qua a dire Perché se no Il video durerà Diciamo Sui Boh Credo 20 minuti Quindi ragazzi C'è Non è durato neanche 4 minuti Sto vlog C'è Anzi forse Se inizio a dire Cazzate Magari durerà anche 7-8 minuti Intanto guardo sempre Sul computer Per vedere Quanto durerà Questo video Quindi ragazzi Il video Il vlog È concluso Come al solito Iscrivetevi al canale Lasciate un commento E mettete un like al video E anche a tutti gli altri video Che vedrete E che Vedevate Vedevate Nel mio canale Perché come al solito Non ci vuole niente A prendere il vostro puntatore Dei mouse A andare sotto al video Dove c'è la descrizione A cliccare il bottone Mi piace Perché ci vogliono 2 secondi 5 secondi Se non avete le mani E Da Soprò io chiedere tutto Ciao ragazzi E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video